Intanto ti chiedo come stai, cioè lì come si sta vivendo la situazione effettivamente, diciamo un po' dove sei, senza specificare la città magari, all'incirca dove sei in Ucraina e come si sta vivendo lì la situazione. Mi trovo al centro del paese, la mia città si trova proprio al centro centro del paese, diciamo tra Adessa e Kiev, come Biela si trova tra Torino e Milano. Ad esempio stamattina sono uscita a comprare il pane, non si trova più, non c'è, alcuni alimentari neanche. E per quanto riguarda la disponibilità ad esempio nei bancomat, si vede nei telegiornali qua in Italia spesso che le lunghe file alle casse automatiche per raccogliere soldi. È una situazione che stai vivendo anche tu in prima persona? I file ci sono, sì, ci sono. La mia città rispetto a Kiev è più piccola, magari se in Kiev davanti al banco ma trovi 50 o 100 persone, qui le trovi 20, 15, a volte dipende dalla zona, magari 10, ma i file ci sono. Li sono preparati dei bunker appunto per la popolazione? Esistono, e io ce l'ho anche io sul cellulare, elenchi dei indirizzi con questi, come li chiamano quando c'è bombardamento puoi andare sotto via? Rifugi, rifugi. Rifugi, ok. Ci sono parecchi, io ho visto questo elenco, è abbastanza lungo. Ci sono questi rifugi. Certo. Non sono andata ancora, non li ho visitati, quello no, ma so che esistono. Infatti oggi vorrei andare a vedere uno che si trova vicino a casa mia relativamente per ogni avenienza. Come si può aiutare una popolazione in guerra adesso? Non ci so dire, il fatto che non ci so neanche dire, in questa situazione noi possiamo aiutare solo noi stessi, a noi stessi. Certo. Perché per dire prendete i fuggiaschi, mi fa un po' da ridere, non puoi uscire dal paese. Adesso l'unica è Polonia che ha aperto le frontiere, quindi quelle che possono arrivare fino alla frontiera, che è da noi fino alla frontiera, se non sbaglio, 1.500 o 2.000 chilometri, quindi senza avere la macchina. Io ho la macchina, ma ho la macchina in Italia, qui sono al pedone, è impossibile e poi ho sentito anche dire che sulle strade è abbastanza pericoloso. Ma ti devo dire anche che io ho parecchie amiche che sono russe, però tra noi non c'è nessun di qui, noi andiamo d'accordissimo. Certo. Perché sia loro che io, noi abbiamo un pensiero in comune, che la guerra adesso non è tra i popoli, adesso la guerra è tra quelli che stanno su, sopra di noi. Certo. Quello che pensa il popolo, poi sai, non sono Dio, non ho tutte le verità in tasca. Ti ringrazio ancora tanto. Grazie, grazie Matteo, grazie a tutti. Grazie, grazie. Grazie. Ciao Ina, grazie mille, veramente.